12,9% di disoccupati, 42% di giovani, 54 mila posti di lavoro persi e 26 milioni 875 mila ore di cassa integrazione autorizzate. Sono questi numeri che raccontano la crisi in Abruzzo e che sono alla base dello sciopero generale di otto ore indetto da CGL e Will Abruzzo per il 12 dicembre, sciopero che culminerà con la manifestazione di Pescara che a partire dalle ore 9 attraverserà il centro città per arrivare in piazza Sacro Cuore dove si svolgeranno i comizi. Consapevoli che sull'occupazione ci vuole una risposta nazionale e quindi noi contrastiamo il Jobs Act e la legge di stabilità nei punti in cui invece si intestardiscono a rendere più facili i licenziamenti considerando che abbiamo già perso 1 milione 200 mila posti di lavoro dall'inizio della crisi. L'Abruzzo deve stare dentro un processo di rilancio che secondo noi deve vedere investimenti pubblici e privati e il rilancio dell'economia interna, dei consumi interni perché i quattro quinti dell'economia sono fatti appunto di economia interna anche laddove si ha un forte settore export come nel caso dell'Abruzzo. L'Abruzzo già soffre della disoccupazione e del calo dell'occupazione soprattutto nei settori terziari. Questo sta a significare che noi avremo ulteriori peggioramenti quindi trasporti, sanità, sociale, edilizia e tutto quello che ruota intorno a un bilancio avrà un forte peggioramento. Noi siamo molto preoccupati, noi chiediamo con forza che la giunta regionale alzi la voce, che la giunta regionale dica con chiarezza che così non va, non può andare bene, che la giunta regionale e il consiglio regionale si facciano promotori nel 2015 di una stagione per il lavoro. Una manifestazione che si preannuncia molto partecipata, oltre 50 i pullman previsti e che si colloca nel contesto dello sciopero generale nazionale. In tutta Italia saranno 54 le manifestazioni e le piazze in protesta. I sindacati contestano anche e soprattutto la politica del governo Renzi. Job Act, articolo 18, leggi di stabilità, politiche economiche e pubblica amministrazione.